Sono Rocco Pasetti, produttore di vino, enologo produttore di vino qui nel territorio del Pescarese a Collecorvino. Sono nella mia azienda di famiglia denominata Contesa, un'azienda che si estende per circa 50 ettari e produciamo vini a denominazione d'origine controllata in questo meraviglioso territorio in questa regione splendida che è l'Abruzzo. Vi voglio parlare del Cerasuolo d'Abruzzo e ve ne voglio parlare anche facendo qualche riferimento per aver avuto anche la fortuna e il piacere di conoscere alcuni personaggi. Mi riferisco a quando nel 1963 alcuni imprenditori, viticoltori ma anche personaggi del mondo del vino abruzzese hanno inteso dare un riconoscimento, una denominazione al nostro vino proveniente da un vitigno, il Montepulciano d'Abruzzo. Faccio i nomi di alcuni personaggi che adesso non ci sono più ma comunque importantissimi, collocati in tutto l'areale abruzzese dove si produceva vino. Mi riferisco a Italo Pietrantoni a Vittorito, il professor Colella a Pratola, Edoardo Valentini a Loreta Prutino, Gino Carletti a Città Sant'Angelo ed altre persone tecnici dell'ispettorato agrario, dell'ispettorato agrario abruzzese, che si sono trovati di fronte ad un vitigno chiamato appunto Montepulciano e al fatto di doverne riconoscere idoneità ad un vino. Questo vino proveniva da zone e territori diversi, ubicazioni diverse, altitudini diverse, territori diversi. Partiamo dal cuore della zona di produzione del Montepulciano che è l'areale Peligno di Pratola Peligno. Avevano identificato in queste aree il cuore della produzione di questa varietà, di queste uve con dei vigneti storici preesistenti e con una tipologia di vino con delle caratteristiche che scaturivano dall'allevamento, dalla coltivazione in terreni molto particolari, molto calcari, ma soprattutto anche molto freschi, con un'altitudine e un'escursione termica importante dove l'uva rispondeva nella maniera ideale e nella maniera migliore per produrre un vino che non era molto carico, molto colorato, era leggermente colorato di rosso e che aveva dei requisiti, dei profumi meravigliosi, dei profumi floreali, dei profumi di mandorla perché l'areale Peligno era comunque ricchissimo di queste piante, di questa coltivazione che erano appunto le mandorle. E poi mano a mano che scendevano verso la costa adriatica, la tipologia di uva, pur rimanendo la stessa, dava un vino completamente diverso. Il vino aveva una maggiore intensità colorante, aveva dei tannini molto più morbidi e mano a mano che si scendeva di quota e ci si avvicinava alla costa fino a giungere le colline di Città Sant'Angelo, hanno capito che una stessa uva, il Montepulciano, potesse dare origine, poteva dare origine a due tipologie di vino. Allora oggi mi viene da chiedere ma perché non hanno pensato di fare due denominazioni? Avranno discusso sicuramente tanto e sono arrivate ad una saggia decisione, quella di definire senza alcun dubbio che questo vitigno, il Montepulciano, potesse generare a distanza di pochi chilometri ma con un forte cambiamento climatico e in un ecosistema completamente diverso tra la zona pedemontana e la zona marina due vini diversi, appunto il Montepulciano d'Abruzzo ed il Cerasuolo d'Abruzzo di cui adesso vi voglio parlare. Perché Cerasuolo d'Abruzzo lo hanno chiamato? Perché si identificava innanzitutto nel colore questo nome, Cerasa, da Cerasa. La Cerasa è questo frutto proveniente dalla costa croata che è una ciliegia che non arriva mai a maturazione eccelsa di un colore rosso pallido, rosa abbondante, ma mai chiaro. Cerasa, da Cerasa, dal colore di Cerasa, Cerasuolo. Ma anche nei profumi, queste profumazioni fruttate di ciliegio, ecco il Cerasuolo d'Abruzzo. Oggi si è aperto un grosso dibattito sul colore del Cerasuolo. E allora perché ho fatto questo ragionamento? Può per dare onore a questi ricercatori, a questi personaggi meravigliosi che hanno dato un grosso contributo alla nascita delle nostre denominazioni. Ma vorrei fare un attimo chiarezza. Il Cerasuolo è Cerasuolo perché Cerasa, perché ha dei riflessi tendenti un po' al rosso, perché la carica antocianica è tale che è difficilissimo estrarre da un'uva montepulciano un vino rosato che non abbia dei riflessi rosa accesi. Allora non confondiamo il Cerasuolo d'Abruzzo con i vini rosati che oggi sono la moda, che sono il momento del consumo e dell'interpretazione. Bevete rosa. Sì, sono d'accordo, ma il Cerasuolo d'Abruzzo non è un chiaretto del Garda, non è un rosè provenzale, è un Cerasuolo da Cerasa. Rosa pallido, leggermente pallido, cerasato al naso, splendido, persistente, consistente, un vino spettacolare. E vive il Cerasuolo d'Abruzzo.